la storia della befana in quella notte invernale nel villaggio in cui viveva la befana c'era una grande confusione tutti erano usciti di casa per guardare il cielo dove splendeva una stella con una lunga coda la stella più grande che avessero mai visto da dove è venuta esclamavano ammirandola stupiti che significa solo la befana era rimasta in casa insieme al suo gatto a occuparsi come al solito delle faccende quante storie per una semplice stella brontolava mentre spazzava e spolverava io non ho mica tempo da perdere la casa della befana era infatti sempre immacolata e in perfetto ordine all'improvviso si sentì bussare alla porta chi mi disturba pensò la donna correndo ad aprire ma trovando comunque il tempo per fermarsi un attimo a sistemare i cuscini a spostare un vaso da fiori con suo grande stupore sull'uscio trovò tre stranieri in lunghe vesti ricamate e con la testa avvolta da turbanti erano arrivati in groppa cammelli che ora erano legati al cancello del giardino e soffiavano nuvolette di vapore nell'aria fredda e frizzante buonasera befana la salutò il primo uomo tendendo la mano scintillante di anelli incastonati di gemme e facendo tintinnare i bracciali d'oro veniamo da un paese molto lontano e abbiamo bisogno di un letto per la notte potresti offrirci ospitalità nella tua casa befana aveva subito capito che quegli uomini erano ricchi e importanti certo ne sarei onorata farfuglio accogliendo i suoi ospiti nel salottino mentre si toglieva il grembiule e si lisciava i capelli che cosa vi ha spinto fin qui domandò mentre accendeva il fuoco stiamo seguendo la strana stella che brilla in cielo spiegò il secondo uomo davvero rispose la befana mentre preparava qualcosa da mangiare per i suoi ospiti noi crediamo che ci condurrà da un nuovo re il re del cielo e della terra continuò il terzo uomo esclamò la befana prendendo le tazze per la cioccolata calda perché non vieni con noi befana le propose il primo uomo partiamo domani con i nostri doni oro incenso e merra vi ringrazio ma proprio non posso rispose befana se me ne andassi che resterebbe qui occuparsi della casa e poi non ho niente da regalare ad un re questo re è appena nato rispose il secondo uomo è ancora un bambino piccolo befana si bloccò con un vassoio pieno di piatti in mano una volta anch'io avevo un bambino disse con un filo di voce ma poi è morto il terzo uomo si alzò in piedi e le mise con delicatezza una mano sul braccio vieni con noi vieni a vedere il bambino che sarà il salvatore del mondo la befana riflette aveva lo sguardo perso nel vuoto e un sorriso triste sulle labbra magari per questa volta murmurò tra sé poi ad un tratto l'orologio a cucù nell'ingresso ruppe fragorosamente il silenzio oh povera me si è fatto così tardi devo andare a preparare i letti degli ospiti la sera dopo la stella brillava ancora più forte e più alta nel cielo sei sicura di non voler venire befana domandarono i tre uomini montando in groppa i cammelli mi piacerebbe molto ma ho troppo da fare rispose l'anziana donna i tre uomini la salutarono con la mano e partirono quando befana rientrò in casa si sentì stringere il cuore lasciò la scopa in un angolo i piatti sporchi nel lavello e le briciole sotto il tavolo e andò ad aprire un armadio nel guardare gli scaffali davanti a sé trasse un profondo sospiro erano pieni di giocattoli befana con aria pensierosa vi fece scorrere la mano sopra rimuovendo uno strato di polvere i giocattoli del mio bambino sarebbero un regalo perfetto per il re appena nato mormorò alla befana ci volle tutta la notte per lavare asciugare e lucidare i giocattoli ma alla fine sembravano nuovi quando i primi raggi di sole filtrarono attraverso le sue finestre la donna infilò i giocattoli nella borsa della spesa si mise il cappotto e il foulard aprì la porta di casa e la richiusa alle spalle e imboccò la strada befana camminò senza sosta tra villaggi paesi e città perse il senso del tempo ma una notte si accorse che la stella era svanita dal cielo qualche giorno dopo giunse nella città di betlemme avete visto tre uomini che viaggiavano a dorso di cammello in cerca di un bambino chiese ad un'oste del posto beh sì sono passati di qui poco tempo fa il bambino è nato proprio in quella stalla laggiù rispose l'oste indicando una capanna dietro la locanda non si sono fermati molto e meno male perché appena se ne sono andati è giunto anche un gruppo di pastori per vedere il bambino certo che se fossero venuti tutti assieme qui ci sarebbe stata una bella folla ma purtroppo siete arrivati a ritardo la scorsa settimana quando i visitatori se ne sono andati anche il bambino è stato portato via dai suoi genitori befana guardò la stalla vuota e la sua borsa piena di giocattoli andrò a cercare il piccolo gli darò i miei regali e gli chiederò di essere anche il mio re poi si girò e si incamminò a grandi passi decisi pensate che si sia scoraggiata nemmeno per sogno si dice che la befana sia ancora alla ricerca del re bambino perché il tempo non significa niente nella ricerca delle cose vere anno dopo anno va di casa in casa chiedendo si trova qui è qui il re bambino in particolare verso natale quando vede un bambino che dorme sente parlare di buone azioni tira fuori un giocattolo dal suo cestino e lo lascia non si sa mai grazie 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 grazie